Amici 3B Meteo, bentornati a questa nuova edizione del Tg di 3B. Cambia qualcosa sull'Italia, lo vediamo prima a livello europeo con una zona di bassa pressione presente sull'est Europa che però farà sentire la sua influenza giovedì anche sulle nostre regioni centro-meridionali portando degli acquazzoni che partiranno dal versante adriatico ma poi raggiungeranno anche quello tirrenico. L'alta pressione si ritira momentaneamente verso nord ma tornerà poi nel fine settimana. Vediamo in dettaglio le precipitazioni sull'Italia con appunto questi acquazzoni temporali che interesseranno le regioni del Medio e Basso Adriatico prima ma poi come vi dicevo raggiungeranno anche il versante tirrenico dal Lazio in giù nella seconda parte di giovedì. Da venerdì comunque già netto miglioramento come temperature. Attenzione ha fatto caldo negli ultimi giorni però i temporali che passeranno giovedì sulle regioni adriatiche poi diretti verso sud faranno in effetti calare un pochino le temperature in queste zone. Vedete infatti versante adriatiche regioni meridionali con colori meno accesi rispetto al resto dell'Italia. Ma poi tranquilli per gli amanti del bel tempo buone notizie perché verso il fine settimana rimonta una zona di alta pressione e a quel punto le temperature in tutto il paese torneranno su valori direi estivi. In particolare a nord a specie regioni di nord ovest punte anche di 31-32 gradi all'ombra. Con questo è tutto per dettagli sulle singole località scaricate l'app gratuita di Tribi Meteo.